Si vive così, non so, così politico in Africa. E poi questi grandi vecchi come si comportano? No, lei ha un problema da regolare, un conto da regolare con le Olimpiadi, un conto a tempo, che cerca di regolare questa volta. Però, non lo so, ve lo vedremo. Comunque, la sua storia è una storia che non si discute. E il clima con gli altri? Noi oggi abbiamo diventa squadra, quindi per me è un'esperienza tutta nuova. È la prima volta. Allora, io partiamo sempre su, cioè, via legge con la responsabilità si domina. Individuale. E quindi stavolta è un po' diverso. Sai che c'è la squadra? Due coppie e due singoli. Due, uno di attività, una danza, un maschio e una femmina. Ah, è lì, mi sta. Anche a Portopista hanno fatto il box per l'Italia, quindi i miei colleghi stanno seduti lì. Perché sono solo dieci le squadre a me, in tutto il mondo. Noi siamo solo dieci i migliori. E chi se la giochi? Chi sono gli altri? Beh, Russia, Canada, Stati Uniti, Giappone. E quindi... Quindi parlate russo corrette ne? Un po'. È la mia traduttrice personale. Ci proviamo, ma non funziona l'altro. Ma come Rimini ormai, quando ci sono gemellati su tutti... Sono proprio soci gemellati con Rimini. Ah, sì, sì. Lo sapevo. Infatti è un caso, però mi ha portato fortuna. Pizze e parco come si è a disposizione negli anni Sessanta. Alla Siberia. Pizze e parco come si è a disposizione negli anni. Pizze e parco come si è a disposizione negli anni.